Fanta coscienza, un nuovo progetto, un nuovo album, un nuovo viaggio verso l'altrove, verso il nostro interiore, ai confini dell'universo, sprofondando in un buco nero per essere risucchiati nel nostro profondo, intimo, abissale. Dopo nomade psichico, dopo volare basso, un altro viaggio, un altro viaggio dentro se stessi, la fantascienza non è esterna ma è interiore, tutto dentro il nostro microcosmo. Aiutatemi a costruire la navicella che mi porterà il viaggio dentro me stesso, aiutatemi ad approntare i razzi nelle fondamenta delle nostre case per iniziare questo viaggio, per seguire il diario astrale su Music Racer. In cambio vi porterò memorie aliene, reperti di civiltà extraterrestri, in cambio vi farò conoscere le storie misteriose del paleufologo Peter Colosimo, vi racconterò dei misteri del raggio della morte, dell'appuntato di finanza Franco Marconi. Aiutatemi a costruire questo viaggio, fantacoscienza, dopo Tarkovsky, dopo Solaris, dopo Philip K. Dick, la fantascienza interiore, la fantacoscienza, aiutatemi, aiutatemi a costruire la navicella, sostenete la fantacoscienza, sostenete la fantacoscienza, non c'è vita su Marco, c'è vita solo dentro noi stessi, fantacoscienza su Music Racer. Roger!